Uno studio sulla sorveglianza attiva su operatori sanitari privati di Abruzzo e Molise per capire l'entità degli eventi avversi dopo vaccinazione con Pfizer. In 340, tre di strutture molisane e due abruzzesi hanno risposto allo studio condotto dall'Università del Molise con il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute e la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e la Casa di Cura Istituto Europeo di Riabilitazione di Isernia. Dati dunque robusti e precisi, considerato il campione qualificato, ha spiegato il docente Unimol Giancarlo Ripabelli, responsabile del lavoro pubblicato sul giornale scientifico di Springer Nature. Nell'82% dei casi i soggetti intervistati, quindi con sorveglianza attiva, hanno segnalato un evento avverso che sembra un'enormità, ma ripeto, essendo una sorveglianza attiva, questa è molto molto più sensibile. Quello che è importante segnalare è questo, che l'80% delle segnalazioni ha riguardato eventi lievi o molto comuni, cioè l'indolenzimento del sito di iniezione, cose banalissime. Gli eventi che sono stati un po' più gravi non hanno mai richiesto l'ospedalizzazione, mai richiesto l'intervento del medico e soprattutto nell'arco di 24 ore al massimo si sono risolte. Eventi avversi, come è noto, ha continuato, più manifesti nelle donne e nei giovani, ma con risposte al vaccino migliori. Se andiamo a guardare quello che è la situazione in Molise, ci rendiamo conto che ci sono ancora percentuali relativamente elevate di persone che rifiutano il vaccino. Se guardiamo la fascia 50-59 anni, noi abbiamo circa 5.000 persone che non hanno ricevuto neanche una dose, circa 9.000 nella fascia 40-49, circa 7-8.000 nella fascia 30-39 e così via. Però quello che secondo me è preoccupante è che oltre il 9% degli over 80 non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino. E questo è qualcosa che abbiamo segnalato più volte e che è necessario, secondo me, affrontare. Alla luce dello studio, ha spiegato ancora Ripabelli, i vaccini sono estremamente sicuri. Bisogna vaccinarsi perché ormai è chiaro che il vaccino funziona benissimo. Anche nelle persone che fanno la malattia, il caso della pistilli è evidente, come gli anziani vaccinati, hanno comunque fatto un'infezione, ma nella seconda maggioranza dei casi è asintomatica e senza nessuna indicazione. Oggi il vaccino è certo che è sicuro ed è certo che ci aiuta a non far circolare il virus, a non far comparire eventuali varianti e soprattutto a proteggere noi stessi, ma anche le persone che frequentiamo. Infine Ripabelli ha ricordato una circolare. Vorrei ricordare l'ultima circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero, 8-10-2021. Al secondo posto viene richiamata la necessità di somministrare la terza dose nel personale e negli ospiti dei presidi residenziali per anziani. È importante, molto importante. Grazie! Grazie! Grazie.